Francesca Fialdini lascia tutti senza parole. Sapete chi è il suo ex fidanzato? Lui è famosissimo, lo vediamo sempre in televisione. E chi lo avrebbe mai immaginato, hai capito la bella bionda? Francesca Fialdini, la dolcissima conduttrice di, da noi, a ruota libera, è stata fidanzata con un personaggio della televisione molto conosciuto e famoso in tutta Italia. Sapete di chi si tratta? Ve lo svegliamo noi. Francesca Fialdini lascia tutti a bocca aperta. Conduttrice radiofonica e televisiva di grande successo, Francesca Fialdini è tra i volti più amati dal pubblico italiano. Dopo la laurea in scienze della comunicazione conseguita presso la Sapienza di Roma, ha lavorato prima per Radio Vaticano e poi come inviata a estera per alcuni contenitori di informazioni locali. Nel 2005 è diventata il volto di Elì, a sua immagine, su Rai 1, posizione, quella di conduttrice, che ha conservato fino al 2013. Dal 2019 è al timone del programma, da noi, a ruota libera, che le ha conferito ancora di più grande popolarità, empatica, dolce con un carattere meraviglioso. Francesca Fialdini è entrata in punta di piedi nel cuore dei telespettatori italiani che, a distanza di tanti anni dal suo esordio in televisione, continua a essere amatissima e seguitissima. La sua vita privata è però top secret. La conduttrice cerca di tenere il suo privato lontano dalle telecamere ma qualcosa non è sfuggito comunque dall'attenzione dei nostri media. Sapete con chi è stata fidanzata la Fialdini? Proprio con lui, un personaggio famoso della televisione italiana. Lo conoscete? Chi è il famoso ex fidanzato della conduttrice? Francesca Fialdini è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La bella bionda cerca di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori ma un dettaglio non è sfuggito ai mass media. Viene fuori l'ex fidanzato famosissimo di cui nessuno sapeva nulla, stiamo parlando di Pif. L'ex iene conduttore televisivo e la bella Francesca, hanno avuto una relazione che si è conclusa però in maniera inaspettata. I due complici affiatati, sono stati beccati in più occasioni da diversi settimanali, a partire da chi di Alfonso Signorini, mentre cenano al lume di Candela o passeggiano per le strade milanese. Lui ha iniziato ad uscire con Francesca Fialdini dopo la fine della sua storia con Giulia Innocenzi con la quale è stato in coppia per sei anni. Purtroppo la loro storia d'amore o flirt fugace che dira si voglia, è durata pochissimo ma i due, a quanto pare, sono rimasti in buoni rapporti. Oggi ciascuno di loro ha preso strade diverse. L'ex iene conduttore televisivo attualmente fa coppia con Nabila Benchett, una donna che non appartiene al mondo dello spettacolo e che l'ha reso papà di una splendida figlia. Invece la conduttrice di Da Noi, a ruota libera, è fidanzatissima con Milo Brunetti, un odonto tecnico di Lecco molto conosciuto nell'ambiente medico. Francesca Fialdini non ha mai parlato pubblicamente della sua relazione con Milo, sempre riservata, in televisione vuole portare solo e soltanto la sua cultura e preparazione ma non la sua vita privata. Ha confessato però il suo desiderio di voler mettere su famiglia in un'intervista a Mara Venier, in una delle ultime puntate dell'ultima edizione di Domenica in, la Fialdini si riferiva con queste parole al rapporto a distanza che vive con il suo compagno. Lui e lei, infatti, abitano in parti diverse d'Italia e riescono a vedersi solo organizzando i propri impegni professionali. Lui e lei, infatti, abitano in parti diverse d'Italia e riescono a disposizione di Domenica in, la Fialdini si riferiva con il suo compagno. La Fialdini si riferiva con il suo compagno.